L'assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico Mino Borracino esprime tutta la sua soddisfazione. Con l'atto dirigenziale numero 106 del 20 novembre 2018, la Regione Puglia, su richiesta dell'amministrazione comunale, ha determinato l'inclusione del comune di Pulsano nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte. Si conosciuta soprattutto per le sue splendide spiagge dal mare cristallino. E prosegue così Borracino, la richiesta dell'amministrazione comunale di Pulsano è stata accolta favorevolmente dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, grazie al possesso di requisiti rispondenti ai parametri richiesti nel regolamento regionale. Pulsano infatti ha confermato di avere buoni flussi turistici in rapporto al numero della popolazione residente, buona presenza sulla popolazione residente, cospicui arrivi su superficie territoriale, alta capacità ricettiva. La comunità e gli operatori turistici possono freggiarsi così di un titolo istituzionale che ne attesta i meriti e rappresenta un tassello importante per immagine ed economia. Ed ora, conclude Borracino, tutti insieme a lavorare, indipendentemente dalle collocazioni politiche, per il rafforzamento dei risultati sin qui raggiunti, con progetti che possano migliorare l'arredo urbano, la viabilità e i parcheggi nella zona mare, oltre a valorizzare i beni turistici del Paese già in uso e a rendere utilizzabili quelli ancora non fruibili come il mulino scopetta e la chiesa del convento. Quindi, come spesso amo dire, andiamo avanti.